La Stata tira spesso becca dei punti, allora loro dicono Draghi vuole sembrare di essere simpatico, magari no, però Draghi un messaggio lo ha voluto dare, dopo tutta la vicenda di Mattarella, dell'elezione del Presidente della Repubblica, arriva e dice guardate, state buoni perché se voglio un lavoro me lo trovo da solo, come hai letto quella battuta Marco? Mi ha ricordato la fiaba della Volpe e l'uva, quando la Volpe cerca di acchiappare l'uva non ci arriva e allora dice vabbè in fondo era acerba e se ne va, lui ci ha provato e come a farsi trovare un lavoro, non da solo, a farselo trovare dai partiti, ha fatto consultazioni frenetiche giorno e notte fino al pomeriggio del venerdì, quando ha capito che non ce n'era proprio, l'ultimo incontro l'ha avuto con Salvini in via Veneto, non l'hanno mandato al Quirinale e quindi adesso deve diciamo nascondere quella sconfitta così come fa la Volpe e quindi dice ah ma io tanto un lavoro se voglio me lo trovo, eh mica tanto. Dopo la richiesta dell'accusa perché venga rinviata a giudizio, cosa ha fatto Renzi? Ha parlato dei singoli pubblici ministeri che lo hanno inquisito, ha detto di Creazzo, ma dov'è la credibilità di un magistrato che riconosciuto colpevole di molestia sessuale, viene sanzionato con due mesi di anzianità della pensione e sul PM Nastasi? Ha detto ma se è stato accusato da un carabiniere di aver inquinato delle prove nel caso Davide Rossi, si farebbe lei giudicare da un procuratore che fa questa roba, poi durante porta a porta l'ha elencato, è entrato nella scena del crimine, ha toccato il mouse, ha aperto il computer, i cestini sono stati scaricati, ha inquinato la scena del crimine. Ma può essere, allora se alcuni osservatori hanno fatto notare, in fondo è il metodo che denuncia quello di screditare il singolo davanti a dei fatti che lo danneggiano, però è un passaggio perché in fondo se lo fa, probabilmente l'opinione pubblica è pronta a ascoltare una critica del genere. Tu cosa hai pensato? Non credo, infatti sta al 2% o sotto il 2%, quindi non mi pare che ci sia un afflato dell'opinione pubblica nei confronti di questo signore. Faccio notare che se un giornalista dicesse non un centesimo, un decimillesimo di quello che ha detto il padre di Renzi dei collaboratori di Renzi e di quello che ha detto Renzi dei due magistrati, Renzi avrebbe già chiesto non so quanti milioni di danni a quel giornalista. Quindi, insomma, o si querelano in famiglia oppure potrebbe anche piantarla di querelare giornalisti che fanno il loro lavoro e il loro mestiere. Per quanto riguarda l'accusa ai magistrati è il metodo Berlusconi e invece di dire sono innocente e di portare tutti gli elementi a suffragio della sua difesa, dice il PM è un porco, il PM è un mascalzone. Come se, tra l'altro, quello che fa il PM spostasse quello che è accusato di avere fatto lui insieme alla sua famiglia. È uno strano modo di difendersi. Io quando mi accusano di qualche reato dico che non è vero, non dico che il pubblico ministero è un mascalzone. E io non sono un politico, mentre lui è un politico e avrebbe il dovere di rispettare le altre istituzioni, essendo lui un'istituzione molto superiore al dovere che ho io.